Musica Ben trovati telespettatori di TV6 all'appuntamento con le previsioni meteorologiche per venerdì 28 ottobre. Dall'osservazione della mappa del tempo medio possiamo notare che su gran parte del territorio italiano avremo condizioni di cielo sereno, mentre sulle estreme regioni meridionali avremo ancora condizioni di debole instabilità con possibilità di piogge. Le temperature risulteranno stabili ma su valori leggermente sottomedia stagionale la ventilazione è sostenuta dai quadranti settentrionali. Nel dettaglio sull'Abruzzo al mattino avremo condizioni di cielo poco nuvoloso o nuvoloso su gran parte del territorio, tuttavia con il passare delle ore le condizioni meteorologiche andranno velocemente migliorando e i cieli si presenteranno sereni su gran parte del territorio. Nel corso del pomeriggio ma anche della serata le condizioni meteorologiche continueranno a risultare stabili su tutto il territorio regionale con assenza di fenomeni di instabilità. Vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo appuntamento.